buongiorno ragazzi sono iade fabbri sono un dietista nutrizionista e divulgatore scientifico all'interno del mio canale trovi dei video che trattano l'argomento di alimentazione e benessere il mio obiettivo è spiegarti cose che la scienza fa un po complicate in maniera facile e applicabile è da poco nata una mia nuova rubrica nella quale mi misurerò la glicemia cioè il valore di zucchero nel sangue dopo aver mangiato determinate colazioni come in questo caso oppure alimenti oppure ricette per valutare quanto questo tipo di cibo o pasto che io vado a ingerire aumenterà lo zucchero nel sangue o meno lo zucchero nel sangue o la glicemia è di fondamentale importanza per il nostro stato di benessere nostro stato di salute soprattutto anche in ambito preventivo per prevenire diabete sindrome metaboliche e altre patologie che si scatenano appunto in età adulta ma non solo quindi ho prestato il mio corpo alla scienza e questa mattina sono le ore 6 farò colazione con una colazione abbastanza classica che da molti miei colleghi ci viene consigliata ovvero 200 ml di latte parzialmente scremato insieme a 30 grammi una porzione di cereali integrali nella confezione c'era scritto fitness quindi teoricamente quando una persona legge fitness associa anche il messaggio salutistico ora vediamo se questo realmente accade mi andrò a misurare la mia glicemia digiuno e poi me andrò a rimisurare tra un'ora quindi alle 7 del mattino e alle 8 del mattino e vedremo se ci sarà stata un'alterazione in questo momento la mia glicemia abbastanza normale 82 tra un'ora vediamo buongiorno ragazzi questa mattina proveremo la colazione sempre 200 ml di latte parzialmente scremato la nostra porzione di cereali ovvero 30 grammi di cereali integrali ma questa mattina con l'abbinamento proteico come io sostengo andiamo ad aggiungere esattamente 40 grammi di parmigiano vediamo la nostra glicemia nelle due ore successive come varierà mi misuro la glicemia digiuno sono le 6 e 10 vediamo tra un'ora tra due ore in questo momento la mia glicemia digiuno è 86 ragazzi ho freddo e ho fame con solo cereali e latte sto patendo veramente la fame misuriamoci la glicemia un'ora dopo cereali e latte in questo momento la mia glicemia è andata a 107 e io ho molta fame e anche freddo è passata un'ora dalla nostra colazione con l'abbinamento proteico vediamo quant'è la glicemia la nostra glicemia dopo un'ora è rimasta ancora 87 praticamente invariata vediamo tra un'altra ora ore 8 del mattino andiamo a vedere in questo momento la mia glicemia dopo due ore dalla colazione latte cereali a che punto è arrivata in questo momento la mia glicemia è andata a 128 due ore dopo la nostra colazione con l'abbinamento proteico andiamo a vedere in questo momento la glicemia com'è la glicemia è 84 quindi due ore dopo addirittura è scesa 86 87 84 significa che la nostra glicemia è rimasta costante nelle due ore successive dal nostro pasto rispetto alla glicemia digiuno con il semplice abbinamento di una fonte proteica in questo caso del parmigiano quindi anche se abbiamo mangiato molte più calorie in realtà il nostro livello di zucchero nel sangue nelle ore successive è rimasto costante questo significa che in termini di prevenzione sulla salute è molto importante ma dall'altra parte è di estrema importanza anche per chi dice io voglio rimanere magro o addirittura voglio dimagrire una volta in più abbiamo ancora dimostrato come le calorie non significano nulla perché anche mangiando di più io posso pilotare attraverso il cibo l'effetto ormonale e la mia glicemia nelle ore successive dal pasto cosa che facendo invece il pasto solo con cereali e latte è vero che ho mangiato meno e vi dico anche che quando ieri ho fatto la prova con cereali e latte ho fatto molta fatica ad arrivare al pasto successivo e devo dire che anche la mia giornata è stata più difficile e avevo più bisogno di zuccheri proprio perché avevo creato un brusco aumento di zuccheri nel sangue l'insulina per troppo zucchero nel sangue deve entrare in circolo prende porta via tutto e a quel punto rimarrò senza zucchero nel sangue a quel punto il mio cervello richiederà zuccheri e io andrò a mangiare di nuovo carboidrati che possono alterarmi la glicemia e innescherò questo circolo vizioso per tutto il giorno ritrovandomi ad avere una dipendenza sempre più forte da determinati cibi che danno appunto un aumento di zuccheri nel sangue questo poi porterà a malattie come il diabete ma indipendentemente dalle malattie sicuramente prima metterò su la pancia e diventeremo tutti una popolazione a mela come scrivo nel mio libro l'abbinamento proteico anche in questo caso si è verificato a questo punto ci vediamo al prossimo esperimento condividetelo con i vostri amici commentatemelo suggeritemi altri tipi di esperimenti sono a disposizione il mio corpo è a disposizione per la scienza e per voi se vi è piaciuto fate tre semplici cose iscrivetevi al mio canale youtube e attivate le notifiche con la campanella così sarete avvisati quando uscirà un mio nuovo video seguitemi sulla mia pagina facebook e sul mio profilo instagram e in ultimo seguite il mio sito internet dove li pubblico le conferenze o gli incontri o le presentazioni del libro che faccio in giro per tutta l'italia ciao e rimaniamo in contatto posso dire una cosa con tutte queste misurazioni della glicemia ho i polpastrelli massacrati ho i polpastrelli massacrati